Il teologo non si farà, da oggi è chiaro questo. Resta solo la stazione elettrica Terna che deve a questo punto servire solo al sistema nazionale di trasformazione dell'energia da inserire negli elettrodotti adiacenti, la stazione elettrica adiacente in generale l'autostrada A2. Come vediamo Terna con i suoi impianti serve anche per altre ragioni tecniche, ma non erano queste le ragioni tecniche iniziali del progetto sul Mondesano, quindi anche i pareri che nel tempo sono stati rilasciati, sempre nel famoso 2010, nefasti a mio avviso, quantomeno superficiali e astrusi, non erano per quelli che l'hanno rilasciato, perché ne abbiamo anche attestato che non tutti l'hanno rilasciato, ovviamente erano su ragioni tecniche completamente divergenti da quelle che oggi ci ritroviamo per queste sentenze del Consiglio di Salve. Quindi continua un approfondimento amministrativo, noi oggi faremo partire una nota al Ministero dell'Ambiente in cui sottolineiamo tutte queste cose per la tutela ambientale del sito dove deve sorgere la stazione elettrica e continueremo ad approfondire perché è giusto che ai cittadini venga data la dignità di un giusto procedimento nella realizzazione di qualsiasi opera immaginata.